Eccoci, siamo qui con Giulia Svegliado, presidente di Celenit S.P.A. Qual è stata la tua esperienza con IBUS? L'esperienza di Celenit con IBUS è stata decisamente positiva. Abbiamo passato con loro l'anno scorso, che è stato un anno molto difficile, per un'azienda energivora e gassivora come Celenit. E grazie all'aiuto e alla consulenza, al controllo mensile dei nostri consumi, i nostri scostamenti, siamo sempre potuti intervenire molto velocemente, risolvere eventuali inefficienze e poter utilizzare tutti i miglioramenti possibili grazie appunto all'informazione che IBUS ci ha sempre dato. Abbiamo potuto apprezzare un calo del circa il 30% del consumo di gas, grazie alle segnalazioni che abbiamo ricevuto da loro. Siamo potuti intervenire celermente, risolvere i problemi tecnici che avevamo e migliorare la resa dei nostri impianti di essiccazione. e quindi direi che l'esperienza che abbiamo avuto e che abbiamo tuttora con IBUS è molto positiva e la consigliamo caldamente.